Il suo certificato di previdenza. Molto più di 80 grammi di carta stampata e di una raccolta di cifre. Questo certificato, infatti, la informa riguardo al suo futuro finanziario. Esso indica l'ammontare della rendita al momento del pensionamento, se può prelevare denaro dalla cassa pensioni, come colmare eventuali lacune previdenziali e altro ancora. Come vede, il certificato di previdenza offre più di quanto si possa immaginare. Swiss Life My World, il portale online di Swiss Life, rende ben concrete le cifre che si celano dietro il certificato. E non è tutto. Può utilizzare online, in maniera mirata, le informazioni sulla previdenza, in modo semplice, divertente e tutto a suo vantaggio. In un colpo d'occhio vede come si presenta il suo futuro finanziario e come ottimizzare in modo mirato la previdenza. Per avere sempre una visione d'insieme delle finanze, con My World può anche caricare documenti di altri fornitori e quindi integrarli nel calcolo della previdenza. Il portale l'aiuta anche ad avere sempre una visione d'insieme. Tutti i dati e i documenti sono salvati nel suo portafoglio e sistemati in base agli argomenti. Per esempio i dati essenziali sulla previdenza del secondo pilastro, come la rendita di vecchiaia o il capitale di vecchiaia. Qui trova il suo certificato di previdenza aggiornato e tutti gli altri documenti assicurativi. All'occorrenza può salvarli e stamparli. Altro aspetto pratico, può simulare vari scenari, analizzare e ottimizzare. Come sa, se sogna di avere una casa propria, può prelevare denaro dal secondo pilastro. My World le rivela le ripercussioni di questo prelievo sulle sue prestazioni. Può quindi ottimizzarle subito, ad esempio con una copertura del rischio in caso di decesso. Naturalmente i nostri esperti le forniscono anche una consulenza personale, per chat, per email o per telefono. La sua previdenza è molto complessa. Swiss Life My World la rende più comprensibile, chiara e ottimizzabile. Per fruire della sua previdenza digitale, effettui ora la registrazione al sito myworld.swisslife.ch. Swiss Life. Il futuro comincia qui. Grazie. 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 Grazie.